Ooooooooh! Oooooh! Tiro nullo! Ooooooh! Grand gol sottobesce! Vada per un punto, vada! 495! Come va amici? Noi siamo i due bomber del freestyle? Bomberissimi! Rieccoci qua al campo per una nuova challenge! Sono in vantaggio io no, che cazzo dicevo? No, sono in vantaggio io perché ultimamente le ho vinte tutte io e ragazzi quest'oggi ritorna la curveball, nonchè una sfida Tra Dijinia, Zapinio, Team Puma e Team Adidas Quindi commentiamo subito Chi vincerà questa challenge tra Team Puma O Adidas e partiamo con 25.000 mi piace Sei pronto a dire che partiamo subito con la challenge? Andiamo Vai Vado Io Ok Bombers Cominciamo subito con la challenge ma andiamo a vedere Il range dei valori Allora ragazzi partiamo con il primo range proprio come la Power Shot con 131 di giri al minuto E 246 questo è il primo range Secondo range 302 496 E il terzo e ultimo Quello più difficile il 612 E 801 giri al minuto Parte il primo Che tocca la testa Yuri Io ho visto assieme Vediamone slow Io ho visto assieme Io ho visto assieme Ho vinto io Ok Bomber partiamo con il primo range Da 131 246 giri al minuto Fischio di inizio e go Eccolo Tiro abbastanza angolato Da parte di Zapinio Con un tiro a giro secondo me Superiore 131 246 331 giri al minuto Diciamo che il primo tiro è stato molto difficile Zapinio tocca a me Primo tiro da parte di Diginio Vai Dig Era un passaggio Punto sulla potenza ragazzi E non sul giro Nooo Così impari Così impari 128 Tira ancora Ready let's go Eccolo 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 Ragazzi 368 Nooo Oh Eccolo il range 233 Bomber Mi sono già dimenticato il range Ma adesso andiamo a vedere il secondo tiro da parte di Dig Vai Aspetta 390 qua 209 209 La sfida continua in pareggio Sempre punteggio adesso di 1 a 1 Go E qua vediamo lo sbaglio da parte di Zapinio Il tiro fuori E soprattutto la palla non girava così tanto Oh 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 Ok Bomber Dopo il mio abbaio Il terzo tiro di Dig Nella colino Rette Manzokic Comunque Manzokic di rovesciato solo 137 131 Sì è rimasto nel range Pappà Range Range rover tipo Tipo Walker Texel Ranger Lo ricordi? Che problemi ha? Chuck Norris Spediamo Chuck Norris L'abbiamo già perso L'abbiamo già perso Quarto tiro Da parte di Zapinio Ranger Oh Secondo me 161 Bomber 106 Zapinio è fuori dalla range Ho completamente sbagliato Ma il momento è il quarto tiro Vai Dig Zapinio questo è il vantaggio 122 Sei out Passiamo all'ultimo tiro Bomber Chissà che vincerà questo range È un po' in dubbio Guarda che gol sott'assente E poi ora è fuori La volete dire che era fuori? Hai yellato Oh Papà Papà 219 Ultimo tiro Da parte del Buon Digigno Vai E qua abbiamo superato Neanche l'applicazione Tenga il valore di giri qua Ah che culo 215 107 km all'aria E 215 Bomber Passiamo al prossimo range Perché questo è finito in pareggio Ok Bomber Si parte Secondo range 302 496 Primo tiro Come on man Tiro sotto al 7 Vediamo Secondo me non ha superato Neanche il 260 km all'aria E' ovvio 260 km all'aria è impossibile Nooo 185 Ho sbagliato Completamente tiro Vai Dig Primo tiro Eccolo La palla non scende Ma il tiro era buono Mi è arrivato un flash 577 451 E allora E allora Si parte benissimo Si parte e carichi Secondo tiro Da parte di Zapinio Punteggio di 1 a 0 Come on let's go Mi sta che Zapinio Anche questa volta E' fuori 216 Zapinio ha sbagliato il range E' rimasto quello di prima Devi venire a quello dopo Vai Dig è il tuo momento Fammi 452 Andiamo Andiamo Oh Sei fuori 496 E quanto è il range? 496 496 Ma dai ma per un punto 495 Ok Vai Dig è il tuo momento Se lo fai Chiudi la partita Vai Chi ti ricorda questo? Occhio che sei un tiro nullo E' nullo eh Oh Tiro nullo E si va avanti E salti un tiro Quarto tiro Secondo me Stiamo la mettendo là Come on ready let's go Che tiro è la bomba? 10 km orari Ma neanche 400 400 66 Vai Dig quarto tiro La bomba Questa come la vedi? Ecco Ultimo tiro Alla parte di Zapigno E' mio Via Ready let's go Go Se sto nel range E prendo la crossbar Vali due punti Vai Allora La crossbar non l'hai presa Quindi i due punti Già non valgono Ah vabbè ho capito Vediamo se almeno Il punto l'hai fatto 338 92 km Complimenti Ultimo tiro Se Dig sta nel range Perde questa challenge No 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 Scusa Sì sì Gancia Faccio l'ultimo tiro E basta Vai 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 L'ho detto Se sta nel range Perde la challenge 314 ragazzi E 105 km orari Wow Bello Bravo Bravo Quando Zapigno Non lo sa perda Bombers Ultimo range 600 12 12 801 Quindi mi darò Meglio di me All'ultima challenge Guarda qua Primo tiro Go Bello Bello Top Mi dispiace Sei out 62 km orari Primo tiro Vai Dig Gran gol Sotto al 7 Attenzione 517 Nannae Ci avviciniamo Anche così ho iniziato a capire un po' Nannae Com'è il tiro Secondo tiro da parte di Zapigno Amici Come on Scusi Passa la palla Aggiustare anche la foto Niente Ma cosa wow Eh lo so era perché gli chiamano l'attenzione di tutti È il momento del secondo tiro Vai Sta sfidando E se ti dico 595 Pa 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 Eh così Oggi non è giornata Terzo tiro Non è E' Furi Oh Cerchiamo di limitare Questa cosa non va Va fuori Tre tiri Tre fuori Onesto Ma io me ne vado Ciao Zapigno È stato un piacere È stato un piacere Terzo tiro Da parte di Dig Cos'era un passaggio per il portiere questo No È il tiro alla Zapigno 698 Però andiamo a vedere il chilometriale di 64 Zapigno Quarto tiro Go Mi mancava Mi mancava che tiravi fuori Mi mancava Cioè mi mancava E lo fa E lo fa E porta a sfidarsi All'ultima mini challenge All'ultimo tiro Quarto tiro Io ho sentito la crossbar Sei out? Mi dicono che sei out Guarda come guarda l'applicazione sconsolato Come i gattini Ho una chicca finale Sì va bene Ho una chicca finale Scommettati questa Se io supero gli 801 E il valore del range Vinco questa mini challenge Vai Guarda Porca trota Porca trota Porca trota Beh il range l'hai superato Ci sei stato dentro No l'ho superato gli 800 Vabbè ma comunque sei due punti come me Quinto ultimo tiro Vediamo la chicca di dig Grazie a tutti Grazie a tutti 446 sei fuori Ma non importa Ma cosa 113 chilometri orari Di esterno ragazzi Una bomba sotto al set Con questo ragazzi Io passo E chiudo Alla prossima challenge Già vado sei con La shuttle No Perché Sono 113 chilometri orari Cioè Già arrivo dall'altra parte Io nel dubbio Pop Salva la porta Grazie a tutti